per la registrazione in full hd con lg g5 abbiamo cambiato location siamo a nichelino è cambiato anche un po il tempo perché la giornata si è decisamente rovinata è diventata molto nuvolosa siamo nella piazza principale il comune movimento e il resto della piazza andiamo un po nella registrazione full hd se assisteremo anche agli scatti che abbiamo visto nella registrazione in 4k vediamo lo zoom come funziona puntando sul campanile qui lo stabilizzatore d'immagine è invece presente torniamo indietro anche in questo caso ovviamente si passa la modalità grand'angolo quando si riduce il fuoco a zero eccolo qua guardate il cielo come si sta facendo a lungo rosa aumentiamo e torniamo nella modalità normale e chiudiamo la registrazione con un ultimo 360 sui lampioni a forma di palma benissimo ciao